Il Consiglio regionale riunito all'Aquila ha approvato all'unanimità il progetto di legge che cambia il nome del Comune di Popoli in Popoli Terme. Ora la palla passa al Ministero dell'Interno che dovrà emanare un apposito decreto. A scegliere di aggiungere terme nel nome della loro città sono stati i cittadini lo scorso 7 maggio con un referendum, il sindaco Moriondo Santoro. Oggi si chiude un ITER che è partito da ottobre dell'anno scorso, un ITER fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dal sottoscritto perché volevamo dare un cambio di marcia. Questo va nell'ottica di rivalorizzare il nostro territorio. Ci sono tanti territori che sono ricchi di acqua, Popoli è ricchissima di acqua. Ci sono altrettanti territori ricchi di acqua sul fuori, Popoli ha la fortuna di essere ricchi di entrambi i tipi di acqua e quindi noi vogliamo sfruttare questa nostra tipicità. Ripeto, oggi sono felicissimo perché c'è stato tanto lavoro dietro. Abbiamo fatto una consultazione elettorale il 7 maggio e anche qui ci sono stati numeri che non mi aspettavo, quindi ringrazio tutta la cittadinanza. Ripeto, oggi sono stati numeri che non mi aspettavo, quindi ringrazio tutta la cittadinanza.